Una vicenda drammatica ha scosso la nostra comunità in questi giorni, un terribile fatto di cronaca ha costato la vita a un ragazzo di soli 19 anni. E' proprio un venerdì santo che stiamo vivendo in anticipo e sono giorni difficili per tutta la comunità. Due atteggiamenti ci dovrebbero accompagnare in questi giorni. Un primo atteggiamento, la solidarietà, la vicinanza e l'affetto a tutta la famiglia di Giovanni e soprattutto ai suoi genitori e alla sorella che come sappiamo sono così provati. Ma soprattutto, come ho avuto già occasione di dire, la vicinanza, l'affetto, la solidarietà, la condivisione va mostrata anche quando si saranno spendi i riflettori nei giorni difficili che verranno, il dopo. Ma io inviterei anche a stare molto vicino agli amici, ai ragazzi, agli adolescenti, agli amici di Giovanni che hanno voluto esprimere così i loro sentimenti, che sono sentimenti buoni, belli, profondi, di amicizia, di comunione. Dobbiamo stare accanto anche a questi ragazzi per aiutarli ad elaborare il lutto, la perdita e soprattutto fare di questo momento di prova un momento di annuncio di valori. Il valore soprattutto fondamentale della vita che non va sprecata, va incanalata verso dei fini positivi. Lei ha fatto visita alla famiglia di Giovanni? Sicuramente, come parroco non potevo non farla, anche alla famiglia di Nunzio che mi pare sia stato anche dimesso. Un parroco deve stare in mezzo al suo gregge, ci andrò ancora nelle ore dove c'è meno gente, ecco, perché nel primo incontro ho dovuto accogliere il dolore. Poi verrà il tempo in cui potremmo dire anche qualche parola più significativa, ma questo è dopo la celebrazione dell'esequio. Ai funerali ci sarà anche la presenza dell'Arcivescovo di Napoli? Sicuramente il Vescovo mi ha chiamato innanzitutto per incaricarmi di dire la vicinanza alla famiglia, la vicinanza alla città farà di tutto per essere con noi, per celebrare l'esequio di Giovanni e per essere accanto come pastore a questa famiglia e alla città, perché è tutta la città che è sgomenta. Ecco, dopo questi fatti terribili di cronaca, che tipo di riflessione possiamo fare, che messaggio vogliamo dare soprattutto ai giovani? È difficile trovare parole, perché corriamo il rischio di cadere nella banalità, perché a fare analisi siamo tutti bravi, ma è calarsi nella realtà che è difficile. Papa Francesco dice che il pastore deve avere l'odore del greggio, ma io vorrei parafrasare, è tutta la società che dovrebbe avere il profumo dei giovani. Troppi analisi non servono in questo momento. Io penso che in questo momento ci viene chiesto di dire ai ragazzi, noi siamo con voi, vi vogliamo bene e cerchiamo di elaborare insieme questo lutto. E poi le porte del cuore, le porte della basilica, le porte dell'oratorio, per noi sono state sempre aperte per i ragazzi. I giovani devono sapere che noi ci siamo, ma ci devono essere in primis le famiglie, i genitori. Penso che sia anche molto difficile in questa epoca storica essere genitori. È tutto un contesto culturale che va riletto, va rivisto, va elaborato in alcune zone. Quello che fa cultura, quello che fa spettacolo e che poi diventa anche linguaggio, non da noi. Da qui da noi ce la facciamo ancora un pochino, ma pensate alla cultura di Gomorra, che diventa uno stile, un linguaggio, un atteggiamento, una posa e poi uno stile di vita. Un atteggiamento che parla solo di violenza e di degrado. Violenza e degrado. Invece l'educazione dovrebbe essere educazione al vero, al bello e al buono. Io mi aspetterei una filmografia che mette in evidenza gli aspetti positivi. I ragazzi che frequentano l'oratoria e la parrocchia, ad esempio, hanno come modello il giovane Carlo Acutis, ma non fa notizia, non fa storia. Allora noi abbiamo bisogno di figure significative, positive. Allora noi abbiamo bisogno di figure significative, positive.